Siamo qui Siamo qui presso il centro sanitario della sede EDUCAT di Brescia In compagnia Sono la dottoressa Malarozzi Buongiorno a tutti Sono medico di medicina generale E sono a vostra disposizione presso il centro sanitario EDUCAT di Via Tosio 1 Tutti i giovedì dalle 9 e mezza a mezzogiorno e mezzo A disposizione per visite mediche, consulti clinici per tutti L'accesso è libero e non serve appuntamento E vi aspetto numerosi Il centro sanitario EDUCAT di Brescia in Via Tosio 1 È aperto tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30 Per visite di medicina generale per tutti gli studenti dell'Università Cattolica Il servizio di consulenza psicologica invece È disponibile su appuntamento contattando telepolicamente la sede Grazie! 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 Grazie!